Buckingham Palace è ansioso di mostrare alla regina che continua con i suoi impegni reali dopo settimane di cancellazioni e preoccupazioni per la salute vacillante del monarca.La regina, 95 anni, è apparsa virtualmente giovedì per parlare con l'ambasciatore del Vietnam, dopo aver tenuto un incontro faccia a faccia con il capo della difesa uscente, il generale Sir Nick Carter, mercoledì. Questo pubblico al castello di Windsor è stata la prima uscita della regina da settimane in mezzo a una serie di apparizioni mancate a causa di problemi di salute. Punto giovedì, l'account Twitter ufficiale della famiglia reale ha pubblicato, oggi la regina ha tenuto un'udienza virtuale con sua eccellenza il signor Nguyen Unglong, ambasciatore del Vietnam. Ci sono più di 170 ambasciatori e alte commissioni con sede a Londra. Ognuno ha un pubblico di The Queen dopo aver assunto il proprio ruolo. Le preoccupazioni per la salute della monarca regnante più lunga, 95 anni, sono cresciute nelle ultime settimane e sono state affrontate mercoledì da suo figlio, il principe di Galles. Punto parlando dalla Giordania, il principe Carlo ha commentato che la regina sta bene, grazie mille. Ha detto al corrispondente reale di Sky News Riannon Mills, una volta arrivati a 95, non è così facile come una volta. L'erede più anziano nella storia britannica ha esclamato, è già abbastanza brutto a 73 anni. Sua maesta non ha partecipato al servizio domenicale della memoria al cenotafio dopo averle ferito alla schiena poco prima dell'evento. Una dichiarazione di Buckingham Palace ha affermato che la regina era delusa per aver perso il servizio, ma, dopo essersi slogata la schiena, lei ha deciso questa mattina con grande rammarico che non sarà in grado di partecipare al servizio della Domenica della Memoria di oggi al cenotafio. Il palazzo aveva precedentemente descritto la ferma intenzione di sua maesta di partecipare dopo aver perso una serie di impegni pubblici dalla seconda metà di ottobre.